Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si affrontano Spa e Fiorentina, una sfida che non si vede in serie A dalla stagione 1967-68. Le due squadre arrivano da momenti di forma opposti. I padroni di casa, dopo un periodo nero con 1.8 partite, hanno dato una sterzata al loro campionato con la vittoria contro il Genoa, e il pareggio in casa dell'Atalanta. Gli ospiti invece hanno interrotto una striscia di tre vittorie consecutive con le brutte sconfitte subite per mano del Crotone e della Roma. Leonardo Semplici ha costruito grana parte del cammino della Spa in casa, conquistando tra le mura amiche 7 dei 9 punti totali. Pioli dal canto suo ha bisogno di invertire la tendenza delle ultime settimane, obiettivo non semplice visto il rendimento alta allenante espresso in trasferta nel corso di questa stagione. La Fiorentina ha bisogno di vincere se non vuole vedere scappare, definitivamente, il treno per l'Europa League.